Finiamola con queste liste bloccate, con il Parlamento dei nominati. Queste le parole di Renato Schifani, presidente nazionale di NCD durante la convention del partito a Salerno. Schifani provoca anche Matteo Renzi, affermando che non dovrebbe sottovalutare l'urgente esigenza di dare più forza all'azione di governo, dando vita ad un letta bis. Sappia che per il nuovo centrodestra è questo un passaggio ineludibile. Se avesse, continua Schifani, veramente attenzione alle emergenze gravi che pesano enormemente sulle famiglie e sulle imprese, poiché non crediamo che egli oggettivamente voglia creare un distacco tra il Paese e la maggioranza che sostiene l'esecutivo, non dovrebbe sottovalutare l'urgente esigenza di dare più forza all'azione di governo, dando vita ad un letta bis. Ci si sta provando, occorre naturalmente che si realizzino dei miglioramenti. Quello che mi ha molto colpito e che mi ha turbato è quello che è successo in Commissione Affari Costituzionali, e cioè secondo me è stato inficiato il passaggio della legge elettorale in Parlamento. Io da Presidente del Senato avrei voluto vedere chiaro su quello che era successo, perché credo che siano state commesse delle anomalie in quel passaggio, e secondo me il Presidente della Camera ha sbagliato a rimettere alla maggioranza della Camera la valutazione della legittimità di quello che era successo. Colleghi parlamentari non hanno potuto votare in Commissione, non hanno potuto esprimere la dichiarazione di voto, questo è un fatto gravissimo perché quando si discute di regole, la stessa Costituzione, l'articolo 72, prevede che occorre ad operare il massimo del rigore, tanto che si deve seguire la via ordinaria. Io penso che sia stata una brutta pagina della nostra Repubblica, ma noi ci insisteremo sempre, insisteremo sempre sulle preferenze, arriveremo eventualmente anche, come ho detto, a un referendum abrogativo, se non dovessero essere accolte. Io mi auguro che alla Camera, ma anche al Senato, possa dire la propria. Dobbiamo restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri eletti, finiamola con queste liste bloccate col Parlamento dei nominati. Nuovo centrodestra per il Sud, che cosa cambia oggi rispetto al passato? Cosa pensate di fare? Beh, una grande attenzione. Noi stimoliamo da giorni Matteo Renzi a dare un nuovo impulso all'Oletta Bis e dal Sud parte oggi un appello ancora più insistente da parte del nuovo centrodestra. È finito il tempo dei temporeggiamenti, occorre rilanciare il Governo perché il mezzogiorno non può aspettare. Lo diciamo da qui, lo dice un uomo del Sud. Si è detto però anche nel passato con le gestioni precedenti. No, noi siamo un nuovo partito, un nuovo partito che è apposto al centro della propria attenzione alle esigenze del territorio, con una nuova politica, la politica del fare. E su questo attendiamo risposte da parte di Matteo Renzi.